Signori, benvenuti, finalmente mi è arrivata la PlayStation 5, oh oh, suonano il campanello. Finalmente la nuova PS5 è venuta. I figli che sono i figli, quindi che posso giocare tutta la notte. Ma, a parte di fatto che cosa sono? Un nano? Cioè, sono un nano? Ma questa casa, guardatela bene. Cioè, non vi ricordo un'altra casa? Sì, è quella di House Party. Cioè, è identica, è la casa di House Party. Porco giuro, persino la foto del gatto c'è. Ma veramente, non ho parole. Quindi, tipo, sarebbe una sorta di prefabbricato del motore, magari, una roba del genere. Incredibile. Comunque, vi è arrivata la PlayStation 5. Da notare. Abbiamo abbrattato l'anima al diavolo per avere la PlayStation 5. Porca puttana, siamo nel limbo. Dove cazzo siamo? Veramente, cioè, siamo davvero in mezzo al nulla. Chissà quanto costa l'affitto, quel mezzo al nulla. Eh, cosa è il cazzo? Oddio, le forchette vanno bene. No. Via. Aspetta, mettiamola qua davanti. Cristo santo. Oh, Jesus. Ma... Ok, I need to connect PS5 to the electricity. Ma... We have troubles with sockets while moving here. So I need to find some extensions. Ah, sì? Ma com'è fatto ad aprirsi questa qui? Si è aperta da sola? Ah, io non ho parole. Ok, trattiamola con cura. È l'unica PlayStation 5 che avremo per un bel pezzo. Cristo, dove cazzo me la collego? Vedete il cavolo? HDMI? Cioè, guardate i cavi, vabbè. Fa un culo. Dove diavolo la devo collegare? Tra l'altro ha detto che aveva problemi di cavi? Quando stavo trasferendo qui. Cioè, veramente... È identica! Vabbè, due cose sono cambiate. Ah, queste sono le prese. Ci abbatte con una presa? Ma sei serio? Che cazzo me l'attacco questa? Cioè, non c'è neanche una presa. Tutto incriccato. Vabbè, ce n'è una anche qua. In realtà. Usiamo questa. Ale! Quante cazzo di ciabatta devo usare mo' per attaccarla alla PlayStation? Cioè, veramente... Cioè, guarda che robe. Cioè, anziché tipo The Human Centipede, veramente. Gesù Cristo mio. Sentite... Oh, merda secca! No, veramente. Più di così non si allunga. Cioè, guardate. Guardate che roba. Veramente un idiota. Cioè, i genitori di questo Cristiano sono fratello e sorella. Ha comprato ciabatte a una presa. Ciabatte a una presa. Cioè, veramente. Parliamone. Ciabatte a una presa. Oddio! Via! Cioè, vabbè. Il pacchetto di potatini è imploso. Vedrà. Già lo amo. Mi sembra un'altra sciabatte. Vabbè, ce n'è fatto una bella scorta. No, vabbè, ragazzo. C'è qualcosa da aggiungere. Gesù Cristo mio. C'è qualcosa da aggiungere. Quasi! Ci siamo quasi. Me ne servono altre due almeno. Credo. Più o meno. Circa. Cioè, veramente. Veramente. Oddio, più di così non va. Vabbè, sposto la Play. La mettiamo qua. Per il momento. Ok. Ora è il momento per la connessione HDMI. Ci arriva? Oddio. Sì, ma t'hanno fregato, cazzo! L'hanno fregato! Questa... Ma poi l'ha comprata dal bagarino, la PlayStation 5? A mille euro. Perché gli hanno dato la scatola così. Ma non c'è neanche la scatola della Play. Abbiamo giù un cazzo. Finalmente, il mio PS5 Gamepad è arrivato. Sì, è arrivato il controller, ma... Cristo santo. C'è qualcosa che non va. Io continuo a dire che l'hanno fregato. Quanti ne ha comprato? Dieci di controller? Seriamente? Perché c'è altre scatole? No, la mettiamo un po' di ordine. Tiro tutto dentro. Non so chi mi ha consegnato sti sti pacchi e Belzebù. Ci abbiamo barattato l'animo, veramente, per la PlayStation 5. Lo faremo tutti noi. Nel corso del 2021 se non riusciremo ad ottenere la PlayStation 5. Però magari faccio il tutorial. Per contattare Belzebù a vendere l'anima. Ora, io non so neanche come ho fatto prima a spaccare il pacco. Sì, aperto da solo. Seriamente si è aperto da solo. Faccio un po' di spazio nel tavolo. Forbici. Qua è il tallotte. Ma come si fa, tipo... Sta venendo l'ansia. Ma come cazzo lo apro, sto schifo? What the... Ma perché? Che cazzo di gamepad è questo? Oddio, dell'Xbox! Che schifo! Tutto nel cesso, vaffanculo. Poi pacchi giganti, minchia. Ma non mi pare il classico impacchettamento di Amazon, quindi... Oh, prendi sto cazzo di co... Ma per sto cazzo di pacco... Cazzo sta roba... Oddio. Il controllo della Play 5. È giusto, ma nell'altro cosa c'è allora? Posso usare il telecomando per aprire il pacco? No. Oddio! Ah, ecco. Sì, ma questo qui è un totale imbecille. Ci ha comprato i pad a caso? Ma io ce l'ho il pad, perché... No! Gamepad battery is low. I need to charge it. I need to charge it. Cioè, seriamente? Il problema è, dove l'attacco questo? In realtà posso... Eh, no, no, posso attaccarlo però. Ah, qua! C'è quasi il cavo! Attacca, sto schifo! Oddio. Ma perché non l'attacca? Scusa, eh. No, aspetta. Qua c'è la roba. No, vabbè, sono tutte le stanze uguali. Mi serve un altro caricabatterie, strano, bla 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 bla. E avrà uno di riserva, no? Forse devo attaccarlo alla ciabatta, non lo so. Sì, guarda il cavo, guardate! Best game ever. Vieni bello! Vieni bello! Ma perché non si attacca qui? Mortacci di tuzzi a buttana! C'è un altro, un'altra presa? Forse lo ruoto. Non fa neanche ruotarlo! Guarda! Gesù mio! Minchia, pieno di merda in giro! Wow, si è chargato così fasto. Minchia, già carico. Aspetta. Aspetta. Ci siamo! Ci siamo. Pre-fake. Oddio! Porco Giuda! Ma che seriamente? Dov'è? Ce l'ha il Wi-Fi, sto un bongoloide. Questa è la stanza delle troie, questa. Non ricordo. Oddio. Adesso ho bisogno di un'instrumento. Potrebbe essere nel garage. Ma cazzo è la PlayStation 4 Pro praticamente? Suni! Ma che cazzo? Fixi il Wi-Fi upstairs. Nel garage l'ha dato qualcosa? E lancia una cassa? Oddio, non dimmi che... Non preoccuparti, ragazzi. L'ingegnere è l'ingegnere. Ah, che ridere. Ha anche cambiato personalità. Ha cambiato voce. Carco Giuda! È giusto? Probabilmente mi devo fare due domande su questa cazzo di... Quel cazzo di router che spari coriandoli una volta aggiustata. Cioè, è proprio all'inferno. Ma come lo faccio partire? Ve lo spieghi? Reboot il Wi-Fi. Fuck! Ma come lo reboot lui, Fifi? Sta con la presa? Hard reset. That should work. Finally I can play my PS5. Oddio, ma cos'è impazzito? Perché c'è scritto sopra, a sinistra, Pliasson Games, cos'è? Oddio! Ma qual è il tasto tipo per avviare qualcosa? Cioè, voglio dire... Ma che merda. Comunque questo è l'unico modo per me per... Per giocare alla Play. Questo è l'unico unboxing che mi posso concedere. Oddio. Knack 3. Oh, I can't wait to play this game. Oh, sì, il famoso Knack 3. Che cazzo è sta cagata? Cioè, manca un gioco vero della Play 5. Una cagata. Come lo metto? Ah, beh, ve lo immaginavo. Grab snacks or kitchen? Verriamo. Come sta? I do Kujima. Ma come... Oh. Ma vaffanculo Ma vai a cagare Non voglio altro Andatevi a vaffanculo Vogliono me la play 5